Salve a tutti, sono Gianni Greco, ingegnere, amministratore unico e direttore tecnico della Gaia Tech SRL, una società di ingegneria nata nel 2017 come evoluzione di uno studio associato già operante da diversi anni nel settore. Il nostro core business è attività di consulenza ambientale, progettazione ambientale per enti pubblici e imprese private. Abbiamo visto che negli ultimi anni per noi i dati acquisiti presso tutti i nostri clienti e presso tutti i nostri cantieri iniziavano a essere un patrimonio importante da dover gestire in maniera organica e integrata. Da qui la necessità di individuare un supporto, un software o un applicativo che potesse farci integrare queste informazioni eliminando tutti gli strumenti che quotidianamente noi utilizzavamo. Faccio esempi come Skype, come Whatsapp, come Gmail, come piuttosto altri software di gestione della posta elettronica. Abbiamo quindi pensato di fare una ricerca di mercato approfondita e da quello che è stata un po' l'analisi è uscito fuori questo strumento Tuepi che non conoscevamo. Abbiamo analizzato il prodotto, abbiamo fatto alcuni test con gli esperti di Tuepi, siamo stati presso la sede di Tuepi per conoscere direttamente il team e da qui ci siamo un po' affezionati a questo prodotto da subito e lo abbiamo già implementato da diversi mesi all'interno della nostra società. Ormai non c'è il nostro collaboratore che durante i sopralluoghi o durante tutte le attività non utilizza questo strumento che ci viene comodo per la gestione degli incarichi, ci viene comodo per tutta la gestione della posta elettronica sia personale sia di studio, per la gestione dei calendari, quindi definiamo le partenze di ognuno, le visite presso i clienti, gli impegni, quindi tempifichiamo anche tutta una serie di attività aziendali. C'è una gestione abbastanza organica di quelle che sono i contatti e quindi un controllo dettagliato di quelle che sono le pratiche. Ringraziamo Tuepi per l'aiuto che ci ha dato in questa fase di start up, di avvio dell'iniziativa da parte nostra e consigliamo a tutti di vedere questo prodotto e testarlo perché per loro diventerà uno strumento importante di lavoro quotidiano. Grazie.